In questo libro ho racchiuso 26 anni di esperienza, tanti studi certamente, ma anche e soprattutto sperimentazione diretta sul campo. Anche tu puoi migliorare il tuo modo di comunicare con gli altri, di relazionarti, sia nella vita privata così come in quella professionale. Spesso purtroppo predomina in noi la parte passiva piuttosto che quella aggressiva. Siamo passivi quando ci lasciamo in qualche modo coinvolgere in situazioni per noi non piacevoli, quando abbiamo difficoltà a rifiutare un invito, quando non riusciamo ad esempio ad interrompere una telefonata inopportuna. Altre volte invece siamo noi che utilizziamo la parte aggressiva per imporre le nostre idee, per portare le persone a fare qualcosa contro la loro volontà. Insomma la persona assertiva invece è in perfetto equilibrio, sa esattamente quali sono i propri bisogni e desideri e riesce a portarli verso l'esterno, ad esprimerli in modo chiaro, senza per questo prevaricare. Quindi massimo rispetto anche per i bisogni e i desideri delle altre persone. Anche tu puoi migliorare il tuo modo di comunicare seguendo i suggerimenti, i test, tutte le informazioni che sono racchiuse in questo prezioso libro, tantissime informazioni pratiche che potrai utilizzare fin da subito per migliorare il tuo modo di relazionarti con te stesso e con gli altri, sia nella vita privata così come in quella professionale. Grazie a tutti.